Andiamo con un applauso il giudice Daniele Poltri Cane Corso Mastino Napoletano Bracco Italiano Bolognese Maltese E piccolo levriero italiano Bolognese Stiamo vedendo l'aggruppamento razza italiana, abbiamo visto muovere il canico osso, il massimo napoletano, dalla volta del bracco italiano Bolognese Quindi i primi due rappresentanti del gruppo 2, rappresentante del bracco delle razze da ferma Bolognese e Maltese rappresentano le razze italiane per quanto riguarda le razze da compagnia, ecco il Maltese Ed infine il piccolo levriere italiano che rappresenta le razze italiane per quanto riguarda i levrieri Grazie 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 Giudice saluta, i rappresentanti delle razze italiane, chiamiamo al terzo posto il cane corso Al secondo posto il bracco italiano E vince il bolognese Una comunicazione di servizio, il proprietario di un doblò bianco targato Domodossola Savona 064 Ancona Bologna è atteso in segreteria Grazie 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 a tutti.